26 luglio. Siamo asserragliati in una fattoria vicino a Marigny. Chiudo gli occhi per pensare a Hazel, ma rifaccio quel sogno. Red, provi il trivetto! Solito sogno, Al. Più o meno. Sì, continuo a tormentarmi. Sto bene ora, riposo un po'. No, Wilson deve capire che sono pronto. Non mi interessa cosa dice, non hai niente da dimostrare. Già, ma sono stanco di lui. A casa mia, quando c'è un problema, lo si prende di petto. È il solo modo di farsi rispettare. Ti capisco. Devi credermi. Un uomo deve affrontare le sue battaglie. Ma il rispetto non serve a nulla se ti fai ammazzare. Per fortuna c'eri tu a coprirmi. E poi c'è il vecchio San Michele che veglia su di noi. Quindi non c'è niente di cui preoccuparsi. Non sapevo che credeste in quella roba. Non rifiuto nessun tipo di aiuto. Vuoi parlarmi del sogno o no? I lupi ci uccidevano al bestiame. Io e mio fratello Paul gli davamo la caccia quando ci hanno accerchiato. Rai, prendi il grilletto! Ci sto provando! Ok! Tutto a posto? Mi dispiace, Paul. Ascoltami, ragazzo. È naturale avere paura. Dobbiamo tornare a casa, fratellino. Da quel giorno mi ripromesi di non deludere mai più Paul. Ora non si tratta solo di convincere lui, ma anche Pearson. Allo riparo! Forza! Turner guiderà il grosso delle truppe nella piazza. Noi dovremmo dare fuoco di copertura da quella chiesa. Domande? Bene! Io ne ho una! Risparmiatela e avrai una stella d'oro. Andiamo! Sono il suo preferito! Basta puttana! Mi serve copertura a sinistra! Tutti gli altri a destra! Prendiamo quella casa! Avanziamo! Ti copro! Nemico in movimento! Freed! Eccone uno! Mi dice un arrivo da sud! Ho preparato il cranio! Lando Barbie! Fuoco di copertura da sinistra! Sedeste! Nemici al secondo piano! Viedo al muro di pietra! Vado! Daniels! Tieni giù la testa! Prendiamo! in movimento un nemico procediamo si stanno ritirando casa sotto controllo alla chiesa cazzo altri lungo la strada ripiegano la casa è nostra dai avanti la maestra porca puttana mi serve copertura a sinistra tutti gli altri a destra prendiamo quella casa avanziamo di coppia Daniels, tieni giù la testa frizzi in movimento nemici in arrivo da su sono a secco, ricarico ecco i tedeschi avvenzare stanno uscendo, eccoli compi 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 i tedeschi A secco, ricarico! Sentaio a ore 12! Ecco i frucchi! Tutte tedesche! Si avvicinano! E vici in arrivo da sud-est! In movimento! Vediamo! Bersaglio a ore 12! Lo stesso! Nord-est! Preso! Bersaglio a ore 12! Avanzare! Stiamo bassi! Non troppo vicini! Arrivano! Apro il fuoco! Vado! Ti copro le spalle! Forza! Muoversi! 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 Dai! Andiamo! Fridiamoci! Camionette tedesche! Nord-est! Si avvicinano da est! Procediamo! Forza! Forza! Find ein Eichen-Echt-Deck! Die haben ihn... Venti! Granata! Si stanno muovendo! Bersaglia ore 9! Ringichiano lo scoperto! Non mi metto buena spila aziana seed! Ros! Benego! Ricarico! Stato! Strati! Granata! Davanti! Avanzare! Devo ricaricare! Sentito! Aiuto! Da fuori ci sono dei feriti! Portali in salvo! Daniels! Trascinali via da lì! Ti copro io! E a terra! Non posso camminare! Lancio una granata! Ci sono! I fumogeni sono l'unica soluzione! Portami via da qui! Sì! Tieni duro! Ho un kit medico! Apro il fuoco! Qui, qui! Sergente, li segnali! Solo davanti! Tiedeschi! Avanti a noi! Ricarico! Beccato! Nemico esce allo scoperto! Ho preso! Ho preso! Devo ricaricare! Granato! Direx for out! Sud-est! A terra! Soldati, nemici! Arrivano da terra! Contatto! Ore 12! Siamo bassi! Non troppo vicini! Mi ha perforato il cranio! Avanti a noi! Nemici in arrivo! Daniels! Banderia tedesca! Avanti! Segnale ai perfezioni! D'acorreria! Banderia tedesca! Panderia tedesca! Daniels! Segnale ai perfezioni! D'acorreria è venuta di vetrino! Arrivano dal sud-ovest! Così! Ragazzi! C'è un cavolo di pavimento! Lancia avanti, giù! Nemici in arrivo! Daniels, la mitragliatrice del semi-cingolato! Si stanno muovendo! Arrivano da su, dovestre! Daniels, indicano a chi chiede le portine! Ecco i tedeschi! Non ammazziamoci! Sono ai sacchi di sabbia! Nemici in arrivo! Daniels, la mitragliatrice del semi-cingolato! Avanzare! Nemici in arrivo da su! Versaio a ore 11! Nemici in arrivo da su! Nemici in arrivo! Daniels, la mitragliatrice del semi-cingolato! Nemici in arrivo da su! Razione a pa defe. Nemici in arrivo da su! Nenei in arrivo da su! Cadenei in arrivo! Nenei in arrivo! Vince in arrivo da su! Semi cingolato! Ecco i tedeschi! Non ammazziamoci! Semi cingolato! Ehi! Indichiamo i bersagli ai mortai! Ristruttere! Un viola scoperto! Arrivano! Nemici in arrivo! Daniels, la mitragliatrice del semi cingolato! Siamo qui! Versaglio a ore dodici! Banzoni allo scoperto! Chi va? Chi va? Chi c'è di coppia? E' a terra! La strada è libera! Tutti alla porta della chiesa! Ok Daniels, tu pensa alla porta! Ci sono! Mi serve un kit! Qui! Dove sono andati? Saranno fuggiti sentendoci arrivare! Ci sono delle scorte! Riforniamoci prima di salire sul Campanile! Merda! Mitragliatrice al secondo piano! Su! State giù! Giù! Sergenti al secondo piano! Vita a terro! Vateli fuori! Colpito! Nemico individuato! Sì! Allora! In movimento! Sì! L'ho fermo! Ok, lo vedo! Davanti a noi! Sì! 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 Tiro la granata! Granato! Granato! Parto dietro l'altro! Pronti! Rilacciapiamolo! Tutto il muro! Date passi e circondiamolo! Nemico avvistato! Attenzione ai fianchi! Copritemi! Frizzo avvistato! Andiamo! Addosco! Frizzo avvistato! Ci sono delle scorte! Riforniamo! Merda! Mitagliatrice al secondo piano! Giù! Attenzione ai bianchi! Molto una granata! Secondo piano! Fateli fuori! Colpito! Da te baschi e circondi! No! Ti sono in cazzo! Oh Granata fumaggina lanciata! Nemi di a terra! Sì, vanno! Contattate, 12 ore! Direkt voraus! Sì, vanno! Sì, vanno! Direkt voraus! Avanti! Dobbiamo prendere questa chiesa! Non mollate! Bene, libero! La chiesa è nostra! Lenius, dà uno sguardo a quei cannoni! Vado alla porta! I cruchia battono i nostri caccia! Usman, Aiello! Andate a distruggere quelle altre! Sì, sergente! Daniel, Stiles, noi daremo supporto in cima al campanile! Per fortuna ci sarai tu là sopra! Nessuna pressione! Tranquillo, ti copro io! Ti conviene! Tutti su per le scale! Andiamo! A scala! Spero che nessuno soffra di vertigini! Cambierebbe qualcosa? No! Forza, sali qua su! Occhi su Ziusman! Pronti! Ok, si stanno muovendo! Copriamoli da qui mentre distruggono la contraerea! Trucchi all'auto in piano! Bel colpo! Restiamo concentrati! È ferito! Assegno! L'hai beccato! De Fritz davanti a loro! Sei andato vicino! Nemico, secondo piano! Daniels, becca quei cecchini! Sono arrestate! Occhio alle finestre! Fuoco, fuoco! Proteggiamo i nostri! A Ziusman e Aiello serve copertura! È a terra! È a terra! Occhi su Ziusman! Broddi! Ok, si stanno muovendo! Copriamoli da qui mentre distruggono la contraerea! Crucchi all'auto in fiamme! Spara ai crucchi che bloccano la strada a Ziusman! Fuori, bersaglio! Nemici accanto all'auto in fiamme! C'è Fritz che manca loro! È a terra! Nemico, secondo piano! Ancora due! Daniels, becca quei cecchini! Ora finiscilo! Occhio alle finestre! Respira! Devi dare copertura! Ci sei andato vicino! Vedetti, fianco sinistro! C'è un'altra contraerea nel cortile! Non è presidiata! Tieni la d'occhio! Sono vicini! L'hai beccato! Lancia fiamme! Eccolo! Merda! Distruggi quel lancia fiamme! Non male! Fa fuori gli altri! Fuoco! È solo ferito! Proteggiamo i nostri! A Ziusman e Aiello serve copertura! È ancora in piedi! Occhi su Ziusman! Brotti! Ok, si stanno muovendo! Copriamoli da qui mentre distruggono la contraerea! Trucchi e l'auto in fiamme! Spara ai cruchi che bloccano la strada a Ziusman! Nemici accanto all'auto in fiamme! Assegno! Per porto! Colpito! Nemico, secondo piano! Egnels becca quei cecchini! È solo ferito! Occhio alle finestre! Si muove ancora! Fuoco fuoco! Tedeschi, fianco sinistro! C'è un'altra contraerea nel cortile! Non è presidiata! Tieni la d'occhio! Sono arrivati alla contraerea! È ferito! Lancia fiamme! Eccolo! È ancora in piedi! Distruggi quel lancia fiamme! Occhi su Ziusman! Leva di mezzo quel lancia fiamme! Va fuori gli altri! Fuoco! Alle squadre serve il supporto! A Ziusman e Aiello serve copertura! Centrato! Occhi su Ziusman! Brotti! Ok, si stanno muovendo! Copriamoli da qui mentre distruggono la contraerea! Crucchi e l'auto in piedi! Centrato! Ancora due! Ancora uno! Spara ai crucchi che bloccano la strada a Ziusman! Concentrati! Cecchini nell'edificio! Nemico secondo piano! Ancora uno! Daniels becca quei cecchini! È ferito! Occhio alle finestre! Tedeschi fianco sinistro! C'è un'altra contraerea nel cortile! Non è presidiata! Tienila d'occhio! Sono vicini! Lancia fiamme! Eccolo! Non male! Va fuori gli altri! Fuoco! L'hai beccato! Centrato! Merda! Rimuove ancora! Sì! Ce l'hanno fatta! Sono alle strette! Semi cingolati nella piazza! Sono in trappola! Fuoco sulle torrette! Devi dare copertura! Colpisci le mitragliatrici! Grande Daniels! Si avvicinano ai cannoni antiaerei! Crucchi sui tetti! Togliamo di mezzo quelli più in alto! Assegno! Occhi su Ziusman! Daniels! Scrucchi in fondo alla strada! Assegno! Li attaccano alle spalle! Semi cingolato dietro di loro! Li stanno circondando! I tedeschi li hanno circondati! Ora finiscilo! E a terra! Che cazzo è stato? Deve essere Turner! Addosso! Copriamoli mentre supportano Ziusman! Un ultimo cannone! Controveremo lo spazio aereo! Signora, la contraerea si sta buttando! Tutti via, presto! Alla scala! Via, via, via! Oh, merda! Daniel! Ti prendo! Stiamo scivolando! No! No! Attenti! Levantemi da lì! No! No! Spia da lì! Presto! Oh no! Muovete il culo! Oh merda! Dai, salta! Ancapa... Oh merda! Dai, salta! Anca poco! Attenzione! Ho forse delle ali, soldato? No, sergente. Infatti non sono il tuo cazzo di angelo custode! Fanculo! Ho perso due ottimi soldati! Ora diamoci una mossa e distruggiamo quei cannoni! Forza! Non vedo Giusman! Merda! Erano insieme prima che crollasse tutto! Per ora ci conviene restare in posizione! I crocchi non devono salire qui! Ho ancora delle granate se ti servono! Mantenere la posizione! Putta qui! Forza, diamogli copertura! Attacco al nemico! Non soppressione! Granata! Vengono su dalle scale! I crocchi assalveranno la nostra posizione! Siedili a bada con il lancio a fiamma! Ricevuti! Prezza in movimento! Assunzate! Non soppressione! Crocchi! Difendere il fianco sinistro! Dietro lato! Truppe tedesche! Versaglio! Non soppressione! Dobbiamo indicare la zona bersaglio AP-47! Daniel, usa un tubato da rosso! Non me lo faccio dire il tuo boss! Sì, sargento! Provo con una granata! Vuoi che ci bombardino! Daniels, lancia un fumogeno rosso per segnalare il cortile AP-47! Panteria tedesca! Fumogeno rosso, Daniels! Fumogeno! Un nemico sulla destra! Respingeteli fino all'arrivo dei AP-47! Ehi, Daniels! Granate fumogeni! Stanno uscendo! Eccoli! Mantenere la posizione! Avanziamo! Ecco il T-47! Sgombrare! Ok, in arrivo! Sfazzate via! Lancia qua! Sfazzate via! Jusman! Sono vivo! Ottimo lavoro! Avete dato il massimo! Quei bastardi sono scappati! E' stata un'azione ben eseguita! Non se la sono cavata tanto male, vero sergente? Forse ti sbagliavi sul loro conto! Finalmente tirate fuori le palle! Ma adesso si fa sul serio! Scopriremo di che pasta siete fatti! Anche se gli servissimo la testa di Hitler, si lamenterebbe! Combattiamo come oggi e la guerra sarà finita in un attimo! Ma per farlo dovremo superare noi stessi! Beh, ci sono! Abbiamo conquistato Marigny! Le truppe tedesche se la stanno dando a gambe! Ma adesso siamo nel mirino di Pearson più di prima! Non so davvero cos'altro pretenda da noi!